E' scesa in campo ieri la sesta edizione di Bergamondo, il mondiale di calcio dedicato alle comunità di immigrati residenti nella Bergamasca. L'iniziativa è promossa dall'Eco di Bergamo, dal Credito Bergamasco e dal CSI. Che sia la festa, lo stare insieme, dare una possibilità alle comunità straniere che sono a Bergamo di trovarsi e di vivere, credo, un bel momento di sporma, soprattutto di amicizia e di festa. Le 20 squadre in gara si sono sfidate nei campi di Bergamo, Curnasco, Stezzano e Tribulina. Dieci le partite disputate nella prima giornata. Si è chiuso con un pareggio di 1-1 il primo match tra il Senegal, vincitore della precedente edizione di Bergamondo e la squadra del Sierra Leone. La Nigeria si è giudicata la partita contro il Ghana con un risultato di 1-0. Vincitrice anche la squadra del Marocco, che in campo contro la Costa d'Avorio, ha chiuso la partita con un 3-1. Sono al via le 20 squadre che si sono poi qualificate per questo torneo, sono al via 20 nazioni, 19 per la verità più la comunità RUA. Si gioca su 5 campi, sono due partite per campo, faremo così per 3 domeniche, poi passeremo agli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e la finale. Bergamondo conferma anche quest'anno il suo forte valore aggregativo tra le comunità di immigrati. Bergamondo è un terreno importante che fa trovare nuovi amici, nuove gente, l'integrazione. Le trovo benissimo perché mi diverto, mi diverto anche quando incontro nuovi amici. Una maniera di stare assieme, di compartire tante culture, di divertirci. Anno dopo anno c'è questa competizione, le squadre sono più forti, si rinforzano e poi è bello perché c'è un intercambio di cultura.